E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Stiamo assistendo a una finale bellissima per Giunta 2-0 e ancora recuperabile da parte del Milan. Questo è un momento importante perché è una realtà importante a Sorrento, un torneo molto seguito. Ripartire dai giovani è fondamentale, come dicevi tu, con i grandi abbiamo avuto qualche risultato un po' negativo. Quindi rifondare il settore giovanile è importantissimo e questo è un buon esempio. Rifondare il settore giovanile campano già dà dei buoni frutti, quindi diciamo che si deve lavorare su quello che la Campania dà anche perché in prospettiva futura abbiamo un contenitore importantissimo. La Campania è sempre stato un esempio nel senso che tutte le società attingono dalla Campania e anche purtroppo anche quelle del nord. Bisognerebbe tirare un po' le orecchie alle società professionistiche campane dove dovrebbero organizzarsi un pochettino di più per poter seguire meglio i giovani campani e cercare di trattenerli in Campania stessa. Penso che questo sia un obiettivo che le società adesso andranno alla ricerca per raggiungerlo prima possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.